Come attivare la promozione Samsung se sei un nuovo cliente Cili Se non sei ancora un cliente Cili, chiama il call center Samsung al numero 800 72 67 864 entro il 31 ottobre 2013 e comunica i tuoi dati personali, la data di acquisto del tuo Smart TV e il codice seriale del televisore. Riceverai il tuo codice promozionale via email entro 48 ore Dopo aver ricevuto il codice, vai sul sito www.cili-tv.it e seleziona il tasto Registrati Indica la tua email e password Inserisci i tuoi dati personali Indica che hai una promozione Seleziona Samsung Smart TV dal menu delle promozioni e inserisci il tuo codice fiscale Inserisci il codice promozionale che ti ha dato il call center Samsung Prendi visione e accetta l'informativa sulla privacy Samsung Il valore del premio sarà così caricato sul tuo profilo Cili Potrai tenere sotto controllo il valore residuo del premio nella sezione Metodi di pagamento ricaricabile della tua area personale del sito Al termine della registrazione riceverai un'email di benvenuto con i codici per utilizzare Cili Per vedere i film in promozione, apri l'applicazione Cili sul tuo Smart TV o da qualsiasi altro tuo dispositivo Vai nel catalogo ed entra nel genere Promo Samsung Seleziona il film che vuoi vedere, il formato, scegliendo tra SD, HD o HD Plus e se noleggiarlo o acquistarlo Inserisci il tuo codice di acquisto Il costo del film sarà scalato in automatico dal premio previsto dalla promozione che hai attivato Seleziona il tasto Play se vuoi far partire subito il film Buona visione! Cili, la videoteca online